L'ITS a Puglia Digital Maker ha aperto le porte per presentare la sua esclusiva offerta formativa post-diploma con un Open Day. L'Istituto Foggiano, primo e unico del settore ICT Information and Communication Technologies in Puglia, nell'Italia meridionale e peninsulare, si propone come un presidio di ricerca e sviluppo della cultura dell'innovazione digitale a livello regionale. Rientra infatti nel sistema ITS nazionale, sul quale il Ministero dello Sviluppo Economico sta investendo importanti risorse, con il duplice obiettivo di agevolare il trasferimento dell'innovazione tecnologica alle imprese e favorire l'occupazione qualificata. Per presentare l'eccellenza di questa nuova e importante opportunità formativa, l'Open Day dell'ITS a Puglia Digital Maker sarà incentrato su alcuni dei contenuti più innovativi legati alla proposta didattica e permetterà ai partecipanti di vivere un momento di informazione attiva attraverso esperienze laboratoriali, incontri con le imprese, interazione diretta con i docenti e il team dell'Istituto. Finalizzate a presentare i corsi proposti, Multimedia Producer, professionista della progettazione di prodotti multimediali e interattivi e Digital Farmer, tecnico specializzato nell'utilizzo di strumentazioni high-tech per l'agricoltura e zootecnica rivoluzionata dalla Smart and Precision Agriculture.